Ci troviamo al cimitero di Sciacca e siamo venuti qui oggi per documentare una situazione di particolare degrado. Assistiamo nelle ultime settimane ad interventi straordinari di bonifica e di pulizia promossi dal comune che vengono effettuati giustamente ed opportunamente in diverse zone della città, dalle località balnearie ai quartieri. Però abbiamo proprio l'impressione che il cimitero sia un po' dimenticato. Sono pochissimi, lo sappiamo perché ce ne siamo occupati negli ultimi giorni, anche per parlare delle difficoltà di effettuare le tumulazioni. Sono pochissimi gli addetti del comune, tre o quattro, che operano ormai al cimitero. Sappiamo che qualcuno sta anche per andare in pensione. Si è proceduto ad un intervento straordinario mandando una o due unità settimanalmente per le tumulazioni e per gli altri lavori necessari. Però la situazione è sempre di estrema precarietà e purtroppo tutto questo determina quanto vi mostreremo adesso con le nostre immagini. Vediamo intanto questa zona dove ci troviamo. Ecco, vedete gli alberi dove praticamente quasi ad altezza d'uomo si ha difficoltà quasi a passare. E poi a terra, vedete, quanto è sporco e quanto invece dovrebbe essere in condizioni nettamente diverse. Questo giro all'interno del cimitero lo effettueremo con Daniela Campione, che è un ex amministratore comunale, ma che soprattutto negli ultimi anni frequenta in maniera particolare il cimitero di Sciacca. Ed anche lei ci ha sollecitato questo intervento. Daniela, è veramente, direi, deprimente arrivare qui e trovare questo degrado. È sintomatico, sintomatico di un degrado che lascia tutti essere fatti, anche perché il cimitero è un luogo sacro, un luogo sacro e di preghiera. Pertanto molto visitato, non soltanto dai cittadini di Sciacca, ma anche dai visitatori che vengono da fuori. Molti dei nostri visitatori turisti sono in realtà gente che va fuori a lavorare. Quindi, tornando qui, uno dei primi pensieri che ha è andare a trovare i propri cari e quindi fare il giro con i propri figli. Spesso si vedono persone che hanno emigrato e che adesso ritornano in queste condizioni. Quindi è un po' deprimente. Lascia proprio il senso del degrado, che comunque non è soltanto legato alla scarsezza del personale, ma anche al buon senso dei cittadini. I cittadini non curano neanche le proprie aiuole, al contrario di altri cittadini virtuosi che hanno invece creato delle vere oasi di preghiera. Pertanto in sinergia, con una giusta attenzione, anche nei contenitori, perché secondo me alcuni contenitori non sono nemmeno adeguati, c'è nel senso che sono sempre pieni, sempre ricolmi di tutto, senza differenziata. Ecco, volevo proprio dire questo. Nonostante si inviti a farla, perché ci sono proprio scritte su alcuni contenitori, leggiamo carta, fiori, quindi c'è l'invito alla differenziata, ma c'è anche una scarsa collaborazione a questo proposito. Sì, c'è una scarsa collaborazione, ma manca penso l'indifferenziato secco. C'è nel senso che l'alluminio, che è spesso, la carta plasticata, dove la buttiamo? Nella carta, quindi è un cumulo. Secondo me non sono adeguati. Spostiamoci in altre zone e continuiamo questo giro all'interno del cimitero. Quelle che vedete sono le erbacce, ma che non sono cresciute proprio lungo i viali del cimitero, e lungo i viali ne vediamo tante, ma proprio sono attaccate ai loculi. Quindi una situazione di degrado assolutamente allucinante, non si era mai visto questo. Quindi bisognerebbe effettuare una scerbatura non soltanto tra i viali del cimitero, ma anche proprio sui loculi, perché, come dimostrano le nostre immagini, la mancata scerbatura ha determinato tutto questo. Daniela, non ci sono parole? Sì, non ci sono parole, anche perché tutto è riversa in uno stato di degrado anche pericoloso. Se voi guardate in alto, ci sono calcinacce ovunque, e con il rischio appunto che cadano. Quindi da un lato, dicevo, sì è vero che c'è scarsezza di personale, però è vero anche che c'è un'incuria generalizzata, diffusa, sia a livello pubblico, sia a livello anche privato. Ma c'è anche una situazione di pericolo determinata dalle sterpaie. Guardate in che condizioni versa quest'area del cimitero. Quindi le sterpaie, la necessità di effettuare un intervento di pulizia in questa zona, proprio per eliminare queste sterpaie, che rappresentano anche un rischio per eventuali incendi. E sono diverse le zone del cimitero di Sciacca, nelle quali sarebbe necessario intervenire in questa maniera, proprio eliminando le sterpaie, noi ne abbiamo presa una a caso, che però è indicativa. Daniela, anche un rischio incendi dunque? È chiaro, perché con questo caldo le sterpaie verdi diventano appunto paie, quindi automaticamente il rischio c'è. Anche perché capita di trovare cocci di vetro a terra, materiale pericoloso, e quindi volontariamente anche nell'andare a riempire l'acqua ci si può fare del male. E completiamo questo giro nel cimitero di Sciacca in una zona nella quale, da un lato, vediamo i rifiuti accatastati perché i contenitori evidentemente non sono il numero adeguato o comunque non vengono svuotati frequentemente per le difficoltà delle quali parlavamo in precedenza. Ma c'è anche tanta sterpaia proprio in questa zona e quindi tanto rischio incendi anche in questa zona. E dall'altra parte invece un privato, il nonno di Sebastian Soldano, il ragazzo di Sciacca che è morto qualche anno fa in un incidente stradale che ha creato questa condizione particolarmente bella, questo giardino all'interno del cimitero. Ecco, ci piace completare questo servizio assieme a Daniela Campione in questa maniera, sottolineando anche l'intervento positivo del privato, oltre alla necessità che abbiamo rilevato più volte in occasione di questo servizio, che il pubblico si interessi maggiormente del cimitero di Sciacca. Daniela? Sì, un abbraccio grande alla famiglia Soldano che ha creato un'oasi di preghiera. Molta gente viene qui e viene proprio a pregare, quindi come dicevo, come mi rilaccio al discorso iniziale, quando si lavora in sinergia pubblico-privato, tutto funziona, però come è evidente, io non ricordo a memoria d'uomo, ma il cimitero riversare in queste condizioni. Torneremo tra alcune settimane e speriamo di trovare il cimitero di Sciacca in condizioni migliori.